Ciao a tutti ragazzi, forza Juventus! Come state? Come ci si sente il giorno dopo una vittoria? Inspiegabilmente più leggeri, possiamo dire così. Siamo qui per commentare un Juventus-Lazio 2-0 che secondo me ci mette abbastanza tranquilli ma non al sicuro per il ritorno ovviamente di Coppa Italia una vittoria che onestamente non mi aspettavo contro un Lazio che non mi aspettavo di vedere in questo modo. Testa la Serie A per la Lazio? Boh, non lo so, intanto la Juve ha fatto lo suo e nel secondo tempo è tornata fuori con un piglio diverso. Questo basterà per le prossime partite, basterà già domenica con la Fiorentina, Fiorentina che stasera gioca con l'Atalanta il match di semifinale d'andata di Coppa Italia e vedremo chi tra le due poi arriverà in finale e vedremo soprattutto chi tra Juventus e Fiorentina arriverà più stanca o forse un po' più tranquilla, serena di testa. Credo che la testa faccia tanto nell'ultimo mese quando devi tirare fuori solo le motivazioni perché in questo momento la Juve deve fare punti. Non li può fare nella partita di Coppa Italia, ovviamente dovrà farli domenica in Serie A. Abbiamo parlato di quelle che erano state le dichiarazioni sia di Chiesa che di Allegri, credo che sia stato un contenuto importante, ve lo lascio qui sopra nelle schede, è uscito questa mattina alle ore 7. Fateci un salto se ancora non avete visto la mia opinione a riguardo della comunicazione, linea comunicativa tenuta da Chiesa Vlaovic e Allegri. E proprio da Allegri partiamo, si è affidato ai titolari, ha utilizzato quelli che questa stagione avevano giocato di più e ce l'hanno fatta per Scesni, perché perin è il portiere di Coppa Italia. Devo dire la verità, un perin che si merita il senza voto, quasi mai impegnato effettivamente, se non è un'occasione della traversa di Luis Alberto. Devo dirvi che il primo tempo mi è sembrato il solito picnic apparecchiato con una Juventus bassa passiva che a un certo punto si provava anche a tirare in area di rigore gli avversari, anche con dei passaggi molto lenti, orizzontali, tanti retropassaggi nel primo tempo. Una squadra che in quel modo non può vincere una partita e che va a completare il primo tiro nello specchio della porta praticamente al 44esimo minuto con Rabiot che tira il volo da fuori area, quindi veramente troppo, troppo poco. Nel secondo tempo la Juventus segna con Chiesa, stappa la partita e riesce a creare qualcosa di più dove nasce anche il 2-0 di Dusan Blaubic. Quel momento lì è il momento in cui davvero ho apprestato qualcosa da parte di Allegri e c'è la richiesta di stare alti, di andare a pressare la Lazio. Ma come, stiamo vincendo 2-0 e li vai a pressare? Sì, perché erano morti, c'era da zannare l'avversario. Io lo so che ogni partita è diversa dall'altra, io lo so che non sempre una cosa è certa e giusta al 100%, però io questa roba è mancata. Ma mica nella partita di ieri, mica in questo mese, mica in questi due mesi, mica in questa stagione, ma in tutti e tre gli anni, il voler sentire l'odore del sangue degli avversari, il voler chiudere le partite, il voler essere coraggiosi e aggressivi, non si può essere sempre bassi e passivi come nel primo tempo. Io lo so che Allegri va a sezionare le partite, va a vedere dei momenti nelle partite, in questi momenti lo puoi fare, in quelli non lo puoi fare, però questa squadra ha bisogno di altro. E sono convinto, ne sono certo, che questa squadra che ha paura, e si vede che ha paura, l'abbiamo visto anche nel primo tempo, se parte proprio dall'allenatore questa dose di coraggio in più, può far bene. Ora, io non credo che il ciclo di Allegri sia destinato a durare, sapete quella che è la mia opinione, l'anno scorso ho sbagliato, vedremo se sbaglierò anche quest'anno e Allegri rimarrà l'allenatore della Juventus anche l'anno prossimo. Però questo è un monito in generale per la Juventus, perché anche se verrà cambiato allenatore, non so poi quanti giocatori effettivamente verranno cambiati. Non mi aspetto 15 operazioni di calcio mercato, 15 giocatori diversi rispetto a quest'anno per l'anno prossimo. Quindi è un monito che vale comunque per la Juventus del futuro, perché tanti di questi calciatori comunque rimarranno la Juve, non tutti per forza di cose. Serve un po' più di coraggio, e se avessimo dato questa dose di coraggio a questi calciatori, sarebbe stato, secondo me, sicuramente una sensazione differente delle ultime tre stagioni. Per in senza voto, ne abbiamo già parlato. Gatti voto 6, un cartellino giallo che gli costa la squalifica per la semifinale di ritorno. Sarà disponibile per la finale di Roma, eventualmente, ipoteticamente. Adesso non possiamo ovviamente proiettarci già là, però Gatti sicuramente che nelle ultime partite ha giocato un po' meno, aveva perso anche il posto da titolare, torna a titolare e fa una gara solida. Fa male anche a Zaccagni, una distorsione importante alla caviglia per Zaccagni. Un male involontario, ovviamente, roba da campo. Bremer voto 6,5, perché io credo che Ciro Immobile abbia fatto una partita molto complicata. Un Immobile che ha dovuto giocare tanto di sponda, un Immobile che ha attaccato poco nella profondità, un Immobile che, secondo me, si è trovato a duellare con una montagna, si è scontrato contro un gigantesco, Gleason Bremer. Partita standard del colosso di Tapitanga, giocatore che sembra essere uno di quelli potenziali in uscita per quest'estate, clausola, non clausola, rinnovo, non rinnovo. Se la Juventus avrà bisogno di monetizzare, Bremer potrebbe essere davvero uno di quei nomi. Danilo voto 6. Non ancora lo standard di rendimento del Danilo prima di quest'anno, perché è proprio tutta la stagione, secondo me, che Danilo ha fatto in calo, però piccoli segnali di ripresa, perché si è avvertito un po' di solidità difensiva e questa roba mancava. Non che la Juventus non abbia ballato, perché ha ballato. Non ha concesso delle occasioni clamorose a Lazio, ripeto, eccezione fatta per attraverso Luese Alberto. Merito della Juve e colpa della Lazio? Non lo so, non ne ho idea, non posso leggerlo, però sicuramente per tornare a quei livelli di Danilo, del passato serve anche qualcosina in più. Voto 5.5 a Kostic, una luce di Natale e intermittenza, acceso, spento, acceso, spento. Diciamo che sicuramente il modo che ha la Juventus di interpretare la partita non va ad aiutarlo, però questo era un giocatore conosciuto per mettere 5-6 cross dentro un'area di rigore a partita, siamo ben lontani da quegli standard lì. Non è più il giocatore che abbiamo ammirato nella prima parte di stagione l'anno scorso. Anche l'anno scorso nella seconda parte ha avuto un calo, oggi è ancora più evidente. Abbiamo McKennie, 6.5, decimo assist stagionale, quando siamo andati in verticale, questo ci dà la conferma che questa è una Juve che deve essere aggressiva in verticale, esattamente come era stata pensata a inizio anno, quando andiamo in verticale facciamo male. McKennie è tornato titolare, perché non era partito al primo minuto a Roma contro Lazio, aveva giocato Mirito al suo posto, McKennie era entrato nella ripresa per causa ovviamente impegni nazionali e roba del genere, però la sensazione, l'impressione è che questo sia un giocatore imprescindibile per la Juve di quest'anno. Decisivo, non ha ancora fatto gol, ma ha servito 10 passaggi vincenti ai compagni, quindi un vero e proprio collante per la squadra, soprattutto in zona di rifinitura. Locatelli, voto 6, l'ennesima prova a insegna del difensivismo, poi devo dirvi la verità, quel recupero palla lì vicino ad Allegri che poi dà la possibilità alla Juventus di non perdere l'Ineris e andare a segnare un gol è importante, ma non è sufficiente, è una partita da 6, da compitino, non è una partita da giocatore che ha il terzo anno di Juventus e che vuole prendersi anche le chiavi della nazionale. Qui c'è un concorso di colpe per Locatelli e Allegri, sicuramente Locatelli quando va in campo ci mette del suo, ma per quanto ancora può essere accettabile questa cosa? Perché secondo me siamo già andati oltre e a Locatelli andrebbe chiesto qualcosa di più e se non lo si chiede, Locatelli forse dovrebbe farlo, quel qualcosa in più. Rabiot, voto 5,5. Io ho la sensazione di vedere un giocatore completamente distante dallo standard di rendimento che si era ipotizzato per il rinnovo annuale, perché questo non è un calciatore che ha il peso specifico di essere un trascinatore, un leader tecnico. A me non piace neanche il fatto che Rabiot non riesca a dare quel qualcosa in più, non raggiungere il livello dell'anno scorso, quel qualcosa in più, perché da Danilo, da Rabiot, sono questi giocatori che oggi devono prendersi in mano a Juventus, non a caso sono il capitano e il vicecapitano. E quando vai a dare delle responsabilità così grandi ai calciatori, poi quel qualcosa in più io lo voglio da questi calciatori qui. E io, perdonatemi, magari non tutti sono d'accordo con me, ma io da Rabiot questa cosa quest'anno non l'ho ancora vista. Anche lui molto intermittenza, ma se da Kostic posso avere un'idea da Rabiot che è un calciatore che guadagna tanto, che è un titolare della sua nazionale con cui ha giocato una finale mondiale, un giocatore al quarto anno di Juve con un rinnovo annuale per permettere di rimanere, io qualcosa in più lo devo pretendere, da Rabiot. E non lo vedo. Poi magari sono io e parto prevenuto, non lo so. Ma non riesco a vederlo. Cambiaso voto 6,5, molto nervoso, non la miglior partita di Cambiaso, poi ti fa quel passaggio da 60 metri, mette in porta chiesa e sblocca la partita. E non glielo dai 6,5? Cioè questo ragazzo ha delle qualità, delle potenzialità, un talento alto, anche qui. Quanto incide il fatto che sia stato la corte di Thiago Motta, dove giocava, non giocava, ma sicuramente gli allenamenti, la costruzione, la valorizzazione c'è stata. E secondo me tanto. Io non so Cambiaso senza quell'anno a Bologna, oggi cosa sarebbe? Se potrebbe essere titolare nella Juventus? Potrebbe essere uno di quelli che dici no, deve giocare dal primo minuto? E forse no. Però, anche qui, la verità in tasca non ce l'ho, sono sensazioni, la mia risposta è sì, grande sì. vedremo poi il futuro cosa ci riserverà, però oggi la Juventus sembra un giocatore importante, interessante, e deve tenerselo stretta. Peccato che sia arrivato a 24 anni alla Juventus. Peccato, davvero peccato. Però, avrà altri 4, 5, 6 anni di grande e alto livello, soprattutto perché è un giocatore che non solo fisicamente, ma anche tecnicamente, tatticamente, sembra avere qualcosa in più. Voto 7 a Chiesa. Perché, allora, c'è un Chiesa che parte un po' più da destra rispetto alle ultime partite, un po' più da destra, però destra, sinistra, centro, l'abbiamo visto un po' dappertutto. Però poi quando riesce a scattare in verticale, a fare quel taglio lì, partendo dall'esterno, andando verso l'area di rigore, quella è la sua palla, eh. Quella è la sua palla. E, per fortuna, questa volta, l'ha messa in buca d'angolo. Un Chiesa che esulta esattamente così, con rabbia, come in occasione della giornata 1 di campionato a Udine, e a me rimane sempre una cosa che davvero non mi farà stare tranquillo per tanto tempo. Una domanda e una risposta che non riesco a darmi, che penso di avere, ma che non posso confermare perché non avremo mai la controprova. cosa sarebbe stata la Juventus proseguendo quell'idea di attacco con il pressing offensivo, col baricentro più alto, con la volontà di far rendere al meglio Chiesa e Vlaovic. Perché sono convinto che oggi saremo parlando di tutt'altra stagione, di tutt'altre sensazioni, di anche tutt'altro rendimento di Chiesa e di Vlaovic, nonostante quello di Vlaovic sia comunque alto. Un bel sospiro di sollievo e un bel sospiro di di sollievo ovviamente per la parte di ieri sera è un sospiro amaro per questa risposta che non potremo mai avere ma che sono sicuro tanti possano pensare quello che ho in mente anch'io. Vlaovic voto 7 e mezzo, il migliore in campo nel primo tempo era Vlaovic contro la Lazio. Quella diagonale che è andato a fare sicuramente eroica ma non è quello che competa un attaccante, tanti falli presi, tanto lavoro sporco anche spalla alla porta dove Vlaovic è cresciuto tanto e poi quel gol. E poi quel gol. Aveva Gemma nel pallone, voleva battere il rigore, gliel'han tolto, boh, non concordo, non condivido su quella decisione arbitrale. Per fortuna la Juventus ha comunque vinto, poi è ovvio che un gol in più in una partita d'andata di una coppa poteva comunque pesare però poi Vlaovic fa un gol meraviglioso. Anche qui se prima la palla cambia superchiesa in verticale invece che il giropallo orizzontale dietro in verticale uno o due passaggi ne andiamo in porta. Poi c'è Vlaovic c'è Vlaovic che fa anche quel doppio passo ed è freddo e fa veramente un bel gol a disorientare anche i marcatori. Uomo squadra, l'uomo che segna di più nella Juve, uno dei pochi che segna effettivamente la Juve. Voto 7,5 a Vlaovic. Poi abbiamo Ildis 6,5 che credo che sia l'unico che può meritare una valutazione tra i subentrati. Ildis è entrato e ha spaccato la partita. Ha veramente spaccato la partita anche qui. Perché è così pochi minuti? Perché non può giocare insieme agli altri? Perché non li possiamo mettere tutti dal primo minuto? Tante domande, poche risposte, soltanto dei gran magoni e della tristezza anche per questa roba qui. Però Ildis è entrato e in Coppa Italia sembra davvero un altro giocatore. Voto 6,5. Poi Weha troppo poco per giudicarlo. Cam troppo poco per giudicarlo. Alexander troppo poco per giudicarlo. Ovviamente si dovrà parlare dei fischi e l'abbiamo già fatto nel video di oggi. Me lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Poi è difficile dare delle valutazioni a questi giocatori compreso Alcaraz che sono veramente entrati negli ultimi minuti. Ieri Allegri sui cambi è stato molto conservativo e si è tenuto bene o male gli 11 titolari di partenza. Queste erano le pagelle di Juventus Last 2-0. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ragazzi come al solito alla fine di ogni video Forza Juventus!